Musica Musica E signori e signori Nell'aperitivo della domenica del convento Abbiamo loro il quinquetto qua Il gruppo che viene da Salò Come si chiama il gruppo ragazzi? Dino al microfono che l'abbè capito? No! Meglio di no, è meglio di no Va benone così, quelli di Salò va benone Quelli di Salò Nicola avrà un nome? Avrà un nome no il nostro gruppo? Quelli di Salò? Sì sì, quelli di Salò Quello dietro della security Quello dietro È la nostra scorta Nicola prendilo in mano E presentami tutti i ragazzi del gruppo Allora, alla nostra sinistra Abbiamo l'artista Il DJ Simone Buonasera Sanremo No San Siro Siamo al tuo vento Va benissimo comunque Dove vuoi stare? Stai Va bene? Ok Simone ha detto un soprannome Simone è vero La papera La papera La papera Ok nel prossimo video Mi spiegherete il perché Della papera Va bene Poi Alla nostra a destra Abbiamo il sceriffo Sharaf detto sceriffo Lo sceriffo di Salò Sì Perfetto abbiamo lo sceriffo di Salò Fantastico Ok Poi abbiamo dietro Abbiamo Tino Detto il bodicard Il bodicard Tino il bodicard Tra l'altro ragazzo che morde facilmente Mi fa ancora male E poi Per ultimo Ma non da meno Saladin detto Aladin E signore e signore Chi mi presenta L'anima del gruppo La cantante Lei che sorregge tutti Eh ma non ho cattiveria in questo momento Come si chiama? Dillo a voi Nicole Detta? Più carico Insomma Nicole Si ha fatto una presentazione Nicole Si chiama Nicole Allora Aladin Tu che sei di parte Me la presenti te In maniera Ah Dai Non si scrive Dai Su Usa quello Usa questo Usa quello Eriko Eh sì Lei è Nicole Si Viene dal Salò Si Eee Dai Ce l'ho mai fatto E' la mia amorosa E' la mia amorosa E' la mia amorosa Gioia Un applauso Che bella energia La felicità Ecco Sono io la forza del gruppo E basta Eh sì sì Nicole Si sente? Yeah Che parla parla Yeah Fantastico Dopo questa poca di energia Possiamo iniziare Possiamo iniziare Tutti a cantare Una canzone Sentimentale Ecco Diciamo che Aladin la vorrebbe dedicare a te Nicole Mentre tutti i ragazzi La vorrebbero dedicare A una componente Che non c'è No A una componente che ha La ragazza In generale Allora No Riassumiamo Aladin la dedica a Nicole Tutti i ragazzi La dedicano A una parte Rappresentativa Di Nicole Che rappresenta Tutte le ragazze E' un po' complesso Un po' complesso Questo Rappunto Ci può arrivare Ok Però è bello Quello che hai detto È bello Sì Ok Scusa Non ho capito Te la scrivo Ti fa capire Nicole Il triangolo Non l'ho considerato Incredibile Simone Ci è arrivato Non me lo sarei aspettato Da lui Era l'ultima persona Su cui avrei puntato No Dai Sto 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 Ok Dai ragazzi Carichi Voglio sentiti cantare Perché voi siete Il gruppo di Salona Io non ce l'ho la voce Ciao La voce di Giorgia È incredibile Vivo per lei Da quando sai La prima volta L'ho incontrata Non mi ricordo Come ma È entrata dentro E c'è restata Vivo per lei Perché mi fa Vibrare forte L'anima Vivo per lei Non è un peso Vivo per lei Anch'io lo sai E tutto non è Serne geloso Lei è di tutti Quelli che Hanno un bisogno Sempre acceso Come uno stereo Un cameraman Ti chieda solo Adesso Svettila Che anche per lui Per questo Io vivo Per lei È una musa Che ci invita A sfiorarla A sfiorarla con le dita Attraverso Attraverso un piano forte La morte è lontana Ma io vivo Io vivo per lei Vivo per lei Che spesso sta Essere dolce Sensuale A volte A volte In picchia In testa Ma È un pugno Che non fa mai male Vivo per lei Lo so Mi fa Girare di città In città Soffrire un po' Ma almeno Io vivo È un dolore Quando parte Vivo per lei Con piacere Vivo per lei Nel vortice Attraverso La mia voce Si espande E amore Produce Vivo per lei Nient'altro E quanti altri Incontrerò Che come me Hanno scritto In viso Io vivo Per lei Io vivo Per lei Sopra un palco Contro a un muro Anche in un domani D'oro Ogni giorno Una conquista La protagonista Sarà sempre lei Che bello che sei Scusa Adesso c'è un'altra Vivo per lei Perché oramai Io ho un'altra via Di uscita Perché la musica Lo sai Davvero Non l'ho mai Tradita Vivo per lei Vivo per lei Perché mi dà Pause, notte e libertà Ci posso un'altra vita Vivo per lei Vivo per lei Vivo per lei Io vivo per lei Io vivo per lei Io vivo per lei Vivo per lei E poi L'applauso al mister Playback Esatto Playback Ci ha messo una passione Incredibile C'è stato un momento Che mi sembrava vero E un applauso anche Aladin Che è il genio Delle inquadrature Proprio Quando vi vedrete Il video Vedrete che Aladin Cercava di mettersi Enrico Ma non capiva Qual era la teoria Perché non ci rendeva E sembrava che schivassi I moscelini Mentre cercava di farsi Riprendere vicino a Nicola Ecco E poi un applauso Un altro punto fuori Che è stato fondamentale E gestire l'ordine Ecco di dietro Proprio Quindi siete veramente Un gruppo incredibile Allora ragazzi Abbracciamo tutti la Nicola L'anima del gruppo Dai abbracciateli Per una volta Non mi abbracciate mai Non mi abbracciano mai Sarebbe una volta La prima volta Che mi abbracciano Dai Amore Scusa Dobbiamo proprio Simbolico Questa pena Simbolico Dai E' un franzo di gruppo E' così Ecco Una cosa E partiamo Ecco così Va bene Facciamo bene Così ci siamo Partiamo Partiamo E facciamo un grande urlo Per la band di Salone Argo Sbi A